Dunque, oggi, accennavo la settimana scorsa, iniziamo a dare una svolta un po' al contenuto del corso, entrando più nel vivo. Da un lato ci cominciamo a polarizzare verso un lavoro pratico che sarà il tema dominante dell'esercizazione di laboratorio da qui fino alla fine del corso e anche della parte di lavoro pratico per l'esame. E dall'altro, diciamo così, cominciamo a costruire finalmente qualcosa di nuovo, perché tutto sommato finora abbiamo reimparato a fare siti web con una tecnologia diversa, con uno sguardo molto più in là sulle esigenze di applicazione di tipo aziendale, però tutto sommato abbiamo reimparato a fare cose che all'inizio dell'anno con altre tecnologie sapevate già fare. Quindi portiamo avanti in parallelo questi due percorsi. Allora, per portare avanti questi due percorsi ci diamo un pretesto, ci diamo un caso di studio e lavoriamo in quello. Allora, io ai primi minuti delle schiacchiate di oggi vorrei raccontarvi, per non rovinare la suspense, non l'ho messo sul sito ancora, lo metto dopo vorrei raccontarvi quelle che via via poi cresceranno ma cominciano a essere le specifiche del sito web che svilupperemo nella seconda metà o metà abbondante del corso. chiaramente qui racconto, però raccoglie le specifiche, proviamo a fingere un processo di sviluppo in cui si parte da un'idea, da quell'idea si derivano delle specifiche, si deriva un modello dati, si deriva poi un'implementazione e poi ovviamente si derivano ciò che è necessario dal punto di vista dell'integrazione di quel sito con altri tipi di servizi esterni, che poi è il tema che cominceremo a affrontare da oggi domani in avanti. Allora, il tema è questo, che abbiamo scelto un po' per interesse e un po' per moda, mi ho detto sul tema, poi ve lo oggette con calma, della gestione energetica, il tema dell'energia è in tutte le salse al giorno d'oggi, a proposito e a sproposito si parla di energia, risparmio, generazione autonoma, eccetera. Noi proviamo a leggere quelle che potrebbero essere le esigenze in termini di nuova gestione degli asset energetici in ambito enterprise. Qualcuno forse sa che è appena uscita una norma nuova ISO, ISO 50001, che in qualche modo raccoglie le eredità di altre norme precedenti, in particolare il nome ISO 14000, che parlavano di sostenibilità ambientale e le interpreta in chiave energetica, quindi dice ciò che va fatto, c'è un'azienda tipica norme ISO legate alle norme di qualità, per cui definisce le caratteristiche del processo che ti devi inventare all'interno della tua azienda affinché tu possa freggiarti del bollino di azienda, diciamo così, che è dotata di un energy management system. Vabbè, questa è solo informazione di contesto, noi della norma non ce ne frega quasi nulla, se no il fatto che chiaramente sull'aspetto organizzativo avrà impatto, tale momento su quello tecnologico, diciamo così, non ci diamo una dipendenza dei contenuti della norma, perché sapete che le norme sono sempre molto generiche e non ti danno delle cose specifiche. Ma allora, la nostra idea è buttiamoci nel mercato enterprise con un prodotto nuovo, visto che le aziende si sveglieranno domani mattina e dicono, caspita che cos'è questa 500001, i miei fornitori me lo chiedono, voglio mettere un bollino in più all'ingresso, migliaia di motivi diversi, cerchiamo di fare qualcosa. Allora, noi siamo pronti, entriamo sul mercato oggi con quello chiamato vision statement, molte idee partono da, molti progetti partono da un'idea, da una visione, dicendo, proviamo ad andare in quella direzione perché sembra che ci sia spinta e domanda, e poi si cerca di articolare, ovviamente sviluppare meglio quella che inizialmente era una visione per far diventare in un'analisi e poi in un progetto e alla fine magari in un'implementazione. Quindi la nostra idea, pseudo imprenditoriale, è creiamo un nuovo sito, un nuovo servizio, chiamiamolo Energy Community, in cui noi azienda terza, fornitore di IT, di tecnologia, offriamo alle aziende che vorranno dotarsi di sistemi di gestione energetica, dei servizi, una piattaforma, software, una software basata su web, in cui loro possono fare delle cose, adesso vediamo qualche esempio, qualche idea, prima idea, poi man mano che andremo avanti nelle settimane aggiungeremo dettagli, con speranza che loro trovino nella nostra offerta uno strumento utile da utilizzare, anziché costruirsi le cose in casa, usano il nostro strumento, noi lo vendiamo, pensiamo ovviamente di vendere più aziende. Quindi l'ottica non è quella, mi faccio lo strumento interno per la gestione energetica, ma faccio uno strumento che poi cercherò di andare a vendere ad aziende diverse. Ok? Quindi siamo una terza parte di questo immaginario giochetto, che ci permette anche di essere un pochino più svincolati, di fare le nostre scelte indipendentemente, sapendo che poi quando metteremo, marcheremo la soglia a casa dei potenziali clienti, dovremmo capire che cosa hanno e capire come integrarci, purtroppo. Allora, il sito vuole fornire alle aziende, clienti, la possibilità di gestire le proprie informazioni energetiche, mettendo a disposizione degli energy manager gli strumenti di monitoraggio e controllo, sia degli asset energetici interni, relativi al consumo o alla produzione di energia, sia di variabili esterne di rilevanti interessi, ad esempio condizioni e previsioni mete, ordini pervenuti, costo aggiornato dell'energia, eccetera. Fase lunga che dice tante cose. Innanzitutto parla di energy manager, che è una figura che tutte le aziende, quelle che non ce l'hanno, dovranno sicuramente dotarsene, che è il riferimento all'interno delle aziende di tutte le tematiche energetiche. Quindi questi energy manager hanno la responsabilità, è chiaro che nelle aziende grandi ci sono già queste figure, negli enti anche di certe dimensioni, nelle aziende medie e piccole, come sempre, il padrone è responsabile che fa un po' di tutto, però in qualche modo richiede un'attenzione, una specializzazione da questo punto di vista. Allora, cosa deve fare come prima cosa questa persona? Minimo deve avere sotto controllo la situazione, minimo. Voi provate a parlare, se conoscete qualcuno, molte volte questi energy manager tengono sotto controllo la situazione attraverso uno strumento che è abbastanza poco tecnologico, che si chiama le bollette. Quindi ogni mese, bimestre, trimestre, arrivano le bollette dell'energia, elettrica, acqua, gas, gasolio, poi dipende da cosa fate, e si monitorano i consumi. E sulla base di questo, del trend di aumento e diminuzione, eventualmente si cerca di agire sul piano del consumo, sul piano della produzione di energia, eventualmente se c'è una produzione interna di energia, con degli interventi alcuni strutturali, tipo se mi accorgo che sto consumando troppo, che ne so, nella server server, allora vedo se riesco a comprare dei server nuovi che consumino meno energia, che abbiano più potenza di calcolo a parità di energia, e quindi magari faccio un investimento in hardware per avere la stessa potenza di calcolo, ma su macchine più moderne, che quindi siano più risparmiose dal punto di vista energetico, per esempio banale, più semplice che possiamo pensare. Se sto spendendo troppo nell'illuminazione, allora magari faccio attenzione, timer, sensori di luce esterna e cose di questo genere, per evitare di illuminare dove non è necessario, quindi interventi di questo genere. Tecnologici, in parte anche eventualmente di sensibilizzazione, oppure interventi lato acquisti. Se capisco come sto consumando, magari col mercato cosiddetto libero dell'energia riesco a spuntare condizioni migliori, più adatte al tipo di consumo che ho io. O magari lavoro sull'organizzazione del lavoro, se riesco, se riesco su alcune lavorazioni a farle alle due di notte, se ho qualcuno lì oppure se vanno avanti in automatico, dove sicuramente l'energia costa meno. Tanti ragionamenti che sono di competenza dell'energy manager, ciascuno a casa propria cerca di capire come intervenire. Dalle bollette dell'energia è difficile capire dove sto consumando, a che ore, in quale attività. Quindi quello che vogliamo fare noi è dare uno strumento in più, attraverso cui queste persone possano monitorare, controllare, qui li ho chiamati gli asset energetici interni, cioè il consumo interni, l'aggettivo interni l'ho usato qui per indicare, misurato all'interno dell'azienda. Questo vorrà dire andare a aprire quel quadro elettrico e andare a mettere un contratore di energia lì dentro. Se avete 300-400 euro che vi crescono, lo comprate e lo installate. Non costa 10 euro, ma non ne costa neanche 10.000, quindi è fattibile da quel punto di vista. Il problema è che una volta che ho, magari c'è anche, già, non mi sembra lì, sembra tutto passivo. Una volta che ho il misuratore installato nel quadro, io devo poi quei dati lì che il misuratore raccoglie, convogliarli da qualche parte, metterli in interfaccia, renderli visibili, renderli consultabili, renderli confrontabili anche con il passato, con le previsioni, eccetera. E questo è qui dove entriamo in gioco noi, con la nostra idea. Ti diamo un pannello di controllo in cui tu puoi aggregare le varie informazioni che arrivano dai, diciamo genericamente, dai sensori che hai in azienda, che possono essere sensori energetici, contattore di energia elettrica, contacalorie in uscita da una caldaia, oppure sensori ambientali, illuminazione esterna, temperatura esterna, temperatura interna, alla fine ti tirano fuori dei numeri e io questi numeri li voglio permettere di visualizzare, di controllare, di monitorare, alla fine è poi tutto riassunto in questo termine. Monitoraggio e controllo. Eventualmente anche di variabili esterne, perché sì, è vero che io oggi ho consumato più di ieri in termini di riscaldamento, ma magari la situazione meteo di oggi era diversa da quella di ieri, oggi è nuvoloso, ieri c'era un po' di sole, quindi è normale, non è che posso decidere che la mia strategia energetica è quella di avere sempre il sole fuori, ci sono le variabili esterne che influenzano e di cui devo tener conto, se no come faccio a interpretare i dati? Perché metà del lavoro, ma neanche metà, la parte più piccola del lavoro è avere i dati e visualizzarli, questo è un problema informatico, e poi in realtà il grosso lavoro puoi interpretarli e tirare fuori qualche ragionamento sensato sui dati che vedo, però per poter interpretare difficilmente mi basta il grafico dei consumi dell'energia in questa stanza qui, se non so quale è l'orario delle lezioni. E quindi è tutto un lavoro di correlazione tra il risultato che misuro e le eventuali cause o il contesto in cui questo risultato è stato ottenuto. E quindi informazioni che qui ho chiamato esterne perché non sono generate dall'azienda o da sensore o da misuratori interni dell'azienda, ma possono essere disponibili esternamente dal fornitore di servizi esterno. Quindi queste informazioni possono essere reperite o le abbiamo oppure le reperiamo da chi le possiede. E poi rivendiamo il pacchetto alla nostra azienda dicendo guarda che bello, ti faccio vedere le temperature esterne e le temperature interne con le previsioni, a fianco ti metto gli euro che spenderai domani, eccetera. Così potrai decidere se il 31 ottobre ti conviene venire a lavorare, quindi scaldare tutto, adesso su questi giorni per fortuna non faceva ancora molto freddo, quanto ti costa scaldare per venire a lavorare 8 ore rispetto a quanto ti costa perdere la giornata di lavoro ad esempio. È un aspetto quantitativo che difficilmente siamo in grado di calcolare. Con il nostro sistema, qui sto facendo un po' di marketing, sarai in grado di valutare quantitativamente e oggettivamente anche questo tipo di scelte, quindi che va anche sul piano del personale e dell'organizzazione. Il sito, qui racconta un po' di contesto, dovrà essere rivolto ad aziende di dimensioni medio-grande, per le quali si possa presupporre una distribuzione in più sedi sul territorio, tanto per complicarci un po' la vita. Io offro un servizio ad un'azienda, voglio mettergli un certo prezzo, questo servizio, e quindi mi rivolgo all'azienda che abbiano una certa capacità di spesa. L'azienda è che quasi sempre, soprattutto se pensiamo magari a aziende di tipo produttivo, diciamo al settore industriale, hanno più di una sede, hanno più di un capannone, oppure hanno una parte industriale e una parte uffici. Allora, noi dobbiamo essere in grado di prendere in carico l'azienda nel suo complesso, quindi nel nostro servizio dobbiamo già avere in mente che un'azienda può essere dislocata su più sedi. Poi dobbiamo tener conto della preesistenza dei sistemi informativi gestionali esistenti, verso l'azienda non lo vendiamo noi, però se hanno qualcosa in qualche modo devo parlarci. Ad esempio, diciamo un caso semplice di un settore industriale, se io potessi avere dal sistema gestionale la produzione del giorno, in termini previsionali o anche solo in termini consumtivi. Cioè io so ieri quanto ho prodotto, allora a questo punto posso mettere in relazione ieri quanta energia ho consumato, perché magari ieri ho consumato, beh non ieri era festa, l'ultimo giorno lavorativo ho consumato di più perché ho prodotto di più, mi va bene, oppure ho consumato di più pur producendo di meno, vediamo che tipo, allora queste informazioni, questi incroci, sempre queste correlazioni, sono possibili solamente se riesco a integrarmi con informazioni che ci sono già. Non potrò mai andare a dire, guarda che io ti vendo un sistema completo per gestione energetica, ma tu hai bisogno di un omino che tutte le sere mi metta nel sistema questi dati. se non voglio essere accompagnato a calci fuori dalla porta. E quindi dovrò preoccuparmi di integrarmi con i dati esistenti. E questo sistema dovrà essere gestibile da una pluralità di operatori responsabili interessati a vario titolo della tematica energetica. E' una frase che da sola non dice niente, ma ci fa capire che ci sarà sicuramente l'energy manager che deve avere un certo tipo di visibilità, ma possono esserci anche persone, diciamo così, a livelli gerarchicamente inferiori rispetto, diciamo così, a un'ipotetica gerarchia di responsabilità energetica, ma che sono responsabili di una parte. sempre, diciamo esempi pratici, un capo officina, se avesse un bel pannellino in cui vede in tempo reale cosa sta consumando, magari lo affronta con ieri, può già intervenire o comprendere eventualmente delle anomalie. Tu hai una macchina operatrice che sta consumando troppo olio, che comunque è un approvvigionamento, perché? Perché? Allora magari devi pianificare l'intervento di manutenzione, c'è un guasto, te ne accorgi, quindi informazioni che a livello locale hanno un significato, magari a livello generale l'energy manager non riesce a capire, non riesce a vedere tutti questi dettagli. Quindi dobbiamo pensare di dare più utenti per azienda, ciascuno dei quali può avere una visibilità diversa rispetto alle informazioni che vengono raccolte. E fin qui è facile. Adesso aggiungiamo un elemento, lo modernizziamo un pochino, forniamo un po' ciò che le aziende vogliono cominciare a vedere, in un'organizzazione multisete risulta essenziale la collaborazione tra le diverse figure responsabili. Questa è una frase che è vera per qualsiasi modello organizzativo, se poi le persone non si parlano o non hanno gli strumenti per potersi scambiare informazioni, va tutto a pallino. Allora noi cerchiamo di risolverlo integrando delle dinamiche sociali nel sito. Sociali private, cioè non è che sociale nel senso che io dico a tutto il mondo che sto consumando troppo e quindi dobbiamo alzare i prezzi dei prodotti perché ho un'efficienza energetica bassa, questa è un'informazione che magari se circola all'interno dell'azienda può essere utile perché ciascuno può fare la sua parte, ma teniamo la chiusa. Quindi una sorta di micro reti sociali interne all'azienda in cui però possono collaborare le persone coinvolte. E quindi ad esempio si potrebbe immaginare di inserire nella nostra piattaforma una sorta di strumento wiki in cui molto facilmente le varie persone possono scrivere, descrivere o un blog o qualcosa di questo genere è ristretto al privato, cioè così ai membri dell'azienda in cui si possono condividere, segnalare problematiche, condividere soluzioni, condividere ragionamenti. Quindi se l'azienda è su più sede, le persone spesso non hanno molta capacità di incontrarsi frequentemente e quindi lo facciamo, aiutiamo questa interazione in assenza di contatto personale attraverso strumenti sociali che per oggi vanno per la maggiore. Così come ad esempio un servizio di messaggistica, tipica una sorta di bacheca semplificata in cui possono vedere i messaggi e gli altri li vedono che è qualcosa di più semplice rispetto a un wiki. Adesso poi entraremo nei dettagli ma dovremo fare l'analisi, decidere esattamente di quali strumenti avremo bisogno. Questa è solo un'idea, una visione. Vogliamo dotare uno strumento di monitoraggio delle variabili energetiche, ambientali, eccetera, eccetera, e anche uno strumento di interazione sociale all'interno dell'azienda. Sulla tematica, non è che devono metterci l'annuncio regalo gattini perché... E strumenti di confronto tra l'efficienza energetica di diversi siti e questo è un po' un ibrido tra i due. Da un lato io ho il mio pannellino in cui mi controllo le mie variabili, dall'altro ho il mio strumento sociale in cui posso comunicare con i miei colleghi, ma dall'altro ho uno strumento che mi permette di vedere o confrontare ciò che ho nel mio stabilimento con ciò che ha il mio collega nello stabilimento gemello in Spagna. Dove chiaramente le variabili ambientali, climatiche saranno diverse, però possiamo confrontare magari i miglioramenti, i trend e cose di questo genere. quindi è un aspetto sempre sociale perché dobbiamo confrontare, condividere informazioni e cercare di guadagnare, di capire dal confronto, però non è più un confronto di idee, di messaggi, ma è un confronto di dati, di risultati. E quindi in questo caso bisogna che un sistema a me è lì. Questo era, io ho provato a rileggerlo così, cercando di adattare a questo contesto ciò che si sente dire spesso in giro, ma che secondo me è una stupidaggine, sono registrato quindi non posso usare le parole che vorrei, si sente dire in giro molto sull'aspetto risparmio energetico per le famiglie che dovrebbero nascere degli strumenti sociali di condivisione dell'energia, dei consumi energetici, per cui io vedo se sto consumando più del mio vicino, più della media, del mio vicinato, strumenti, e questo dovrebbe incentivare un uso più consapevole dell'energia. Io non ci credo per nulla in queste cose, perché da quando uno si vede la mattina, quando va a dormire la sera, di solito non è che passa la maggior parte del tempo a sapere, sì, qualcuno potrebbe esserci che va a vedere se quel giorno lì ha consumato meno della media del vicino e quindi decide di non fare la lavatrice, lo vedo poco credibile, soprattutto se poi uno prende queste cose e le traduce in euro, stiamo parlando di differenze di pochi centesimi al giorno, allora fai prima a risparmiare sul caffè e poi non preoccuparti della cosa. Mentre in un ambito aziendale mi sembra che possa avere più senso, questo tipo di cose, anche perché viene a mancare l'aspetto wireistico di sapere non magari il vicino ma normalmente si parla dei media dei vicini, poi se cercate un attimo ci sono chili di studi che sono stati fatti su questo tipo di dinamiche che appunto sono poi difficilmente secondo me applicabili nel concreto perché tu dovresti trovare, dovresti confrontarti con che cosa? Con i consumi di una famiglia che ha le tue caratteristiche demografiche, non puoi confrontare i consumi di un singolo con quelli di una famiglia dei cinque che vive in una zona climatica simile alla tua che ha un'abitazione in una superficie simile alla tua e comincia a aggiungere vincoli e rimanete in tre e che abbia deciso di condividere i propri dati e che si è adattato dell'estrumentazione quindi va bene per ragionarci però noi da quei ragionamenti ci si può credere o no proviamo a derivare a qualche cosa proviamo a portare avanti questi ragionamenti applicandoli nel nostro contesto di business noi vogliamo applicarci lì allora prendiamo ciò che è di buono sentiamo in giro cerchiamo di adattarlo vestirlo e venderlo bene quindi questa frase qui è molto generica perché non so ancora bene cosa potremmo fare fa parte dell'analisi dei passaggi successivi cominciamo però ad aprire la mente verso queste cose quindi mi sembrerebbe anche interessante visto che non siamo troppi in questo corso se queste specifiche le arricchiamo l'arricchissimo sicuramente state facendo anche col vostro contributo quindi se qualcuno ha un'idea la segnala la discutiamo insieme non me la chiedo così a caldo perché poi al mattino presto non si può pretendere ma quando ci rivediamo magari dedichiamo un po' di tempo a ragionare quando faremo l'analisi facciamo una parte di questa analisi ve la diamo già fatta tra virgolette imposta una parte invece la possiamo sicuramente costruire insieme ok l'intero sito potrà essere accessibile solamente agli operatori autorizzati dall'azienda ovviamente il sito anche se un'azienda potrebbe decidere un sotto insieme di queste informazioni di renderle pubblicamente consultabili ma può anche diventare se poi diciamo così sei sicuro di quello che stai facendo può diventare anche uno strumento di marketing io ti faccio vedere in tempo reale chiaro non il singolo dettaglio ma un trend mensile oppure miglioramenti rispetto all'anno precedente anche solo l'avere coraggio di mostrare dei dati reali e non dei dati nascosti dentro un rapporto annuale in cui uno ci ha fatto i grafici studiando di modo che non si veda quello che non deve vedersi questo potrebbe diventare soprattutto nell'ottica ISO 50001 uno strumento anche di vantaggio competitivo rispetto alle altre aziende poi bisogna essere in grado di monetizzarlo per carità ma è uno strumento possibile il sito per l'installazione SAS la conoscete la sigla software as a service la nostra ma visto che stiamo pensando sistemi informativi web la nostra idea è un po' questa di non venderti il software di non venire a installare il software a casa tua ma di venderti il servizio quindi io avrò dei server su cui giro il servizio tu pagherai un abbonamento ci saranno dei meccanismi attraverso cui il server del servizio e il server dell'azienda comunicheranno e scambieranno le informazioni però tu in azienda hai un impatto minimo non devi avere dei server nuovi per gestire questo servizio e così il software me lo tengo sui miei server non è necessario questa è una modalità diciamo così che attualmente è abbastanza sfruttata soprattutto per servizi che siano servizi diciamo così collaterali aggiuntivi non i servizi principali dell'azienda soprattutto in questo campo in cui tutti si stanno un po' muovendo noi vogliamo andare a piazzare un prodotto ma non vogliamo dire guarda che per piazzare un prodotto tu devi prevedere due anni uomo di lavoro di integrazione al tuo interno rivedere i tuoi server eccetera no il prodotto ce l'hai paghi un tot se non se non integriamo con i tuoi servizi sistemi informativi avrai solamente informazioni molto povere se invece faremo del lavoro aggiuntivo ma lo faremo incrementalmente allora avrai informazioni sempre più precise no e diventare poi anche una strategia poi di vendita di un servizio nuovo che fino ad ora le aziende non hanno richiesto quindi siamo un po' noi a cercare di stimolare la domanda e quindi un unico software che dovrà essere in grado di gestire più aziende diverse e dovremo noi promettere no o garantire che i dati di ciascuna azienda visto che stiamo ospitando sul nostro server i dati di aziende diverse dovremo garantire che le varie aziende non possono vedere i dati reciprocamente l'una dell'altra ma noi se li abbiamo potremmo magari fare dobbiamo poi mettere la clausolina giusta ricordarsi di dire all'ufficio legale la clausolina giusta per cui noi possiamo eventualmente fare delle elaborazioni aggregate anonime sulle aziende che abbiamo e quei dati lì diventano preziosi di per sé perché possiamo avere una mappa reale di informazioni che altri non hanno quindi chissà che non ci possiamo costruire dei business collaterali sopra quindi oggi è mercoledì ma il lunedì mattina si arriva all'inizio settimana con una buona idea con quella che può sembrare una buona idea da qui in avanti si parte a sviluppare a ragionare aggiungere dettagli eccetera quindi questo è un po' cerca di essere sia l'emagogia attuale in termini di contenuti che ovviamente in termini di tecnologie quindi come l'ho chiamata prima un pretesto ragioniamo di energia piuttosto che inventarci qualche cosa completamente scorrelato magari può anche tornare comodo in questo momento a livello di tirocini in contatti con le aziende e cose di questo genere va bene adesso da qualche parte dobbiamo partire in un processo di sviluppo vero a questo punto dovremmo fare una serie di riunioni di ragionamenti identificare un gruppo di lavoro che faccia l'analisi e da qui derivi quali sono le funzionalità principali va bene va fatto lo faremo il problema è che magari nel frattempo vogliamo operativamente cominciare a partire quindi cerchiamo di travasare di dimenticare per un attimo di dare per scontato per un attimo di sapere quali sono le funzionalità del sito e cominciamo a implementare un pezzettino ma anche perché così poi man mano che avremo le idee man mano che avremo le specifiche le potremo aggiungere allora io inizierei a partire da ciò che si può già desumere da questa descrizione cioè nel ragionare su questo abbiamo già in qualche modo sottinteso un modello dati abbiamo parlato di aziende abbiamo parlato di siti sedi delle aziende abbiamo parlato di sensori abbiamo parlato di dati che provengono da questi sensori poi abbiamo anche detto che questi sensori possono anche essere esterni arrivare da fuori e va bene abbiamo parlato di utenti utenti che possono avere diversi ruoli diversi privilegi abbiamo parlato di display di pannelli allora tutte queste tutte queste informazioni da qualche parte ci dovranno essere allora sia per approfondire per chiederci le idee sia per cominciare a costruirlo potremmo cominciare a lavorare del database del sito e poi su questo costruiremo le varie funzioni ma facciamo un primo progetto di massimo del database allora questo è come sempre un pretesto anche per raccontarvi lo strumento che non abbiamo ancora utilizzato nel senso che su MySQL Workbench noi abbiamo utilizzato la colonna di destra per l'amministrazione del server e quindi lì dentro troviamo le funzionalità tipo via fermati fai backup ripristina versioni precedenti e la colonna di sinistra in cui giocavamo con le query essenzialmente provavamo abbiamo visto vedevamo i dati interrogavamo scrivevamo query eccetera la colonna centrale non l'abbiamo mai usata questa è la funzionalità di fatto è un tool separato anche se è integrato nella stessa finestra che permette di fare la modellazione di nuove basi dati e ci permette di creare quello che lui chiama un modello entità relazioni in realtà non è proprio così o meglio non è uguale analogo a quello che chiamavate nel corso di base di dati modello entità relazioni perché vedremo che questo tipo di modelli sono più concreti allora vediamo un attimo le caratteristiche di questo strumento e poi le applichiamo al nostro caso di studio allora io qui ho creato un nuovo modello R e ho una visualizzazione che a prima vista non può confondere perché sembra la finestra di query in cui vedo i vari database e in questo caso non c'è nessuna vedo le varie tabelle attenzione che questa non è una vista sul database che ho attualmente funzionante ma è un modello del database che sto costruendo quindi queste tabelle che aggiungeremo qua via via saranno un progetto saranno tabelle temporanee che poi a un certo punto dovremo poi mappare sul database inserire in un database reale ok quindi il MySQL ci permette di lavorare o sul database ma questo lo facciamo appunto aprendo i collegamenti sviluppo SQL oppure nella fase precedente di creare dei modelli quindi progettare la struttura del database che poi ci sarà dopodiché mi da e quindi qua vedrò già quale sarà la struttura del database che sto progettando la posso modificare e poi a un certo punto la implementerò farò un passaggio che qui viene riassunto un'operazione chiamata forward engineering cioè ho un modello e inietto questo modello dentro un database vero dentro di BMS dentro una copia di MySQL che sta girando finché costruisco un modello MySQL potrebbe anche non essere attivo non ci interessa stiamo solo lavorando con un editor poi a un certo punto prendiamo tutte queste tabelle che abbiamo disegnato e le mettiamo dentro il database le iniettiamo dentro il database in realtà il workbench permette di fare anche tipo altre operazioni ad esempio reverse engineering cioè prende un database che esiste e me ne crea un modello che posso editare che posso modificare e poi degli strumenti di sincronizzazione per cui dopo che ho creato il database l'ho ingegnerizzato ho fatto forward engineering l'ho messo in un database vero poi magari mi accorgo che devo modificarlo aggiungere delle cose quindi in un caso potrei cancellare tutto e rigenerarlo da capo oppure posso cercare di sincronizzare cioè applicare al database esistente running vero le modifiche solamente le modifiche che ho fatto sul modello quindi è uno strumento abbastanza potente allora che cosa dobbiamo fare dobbiamo definire io qui do anziché mydb do un nome vediamo se riesco a non farlo piantare edit schema eccolo qua lo chiamo energy community al database e poi posso cominciare a costruire le tabelle questo add table mi dà una finestra molto simile a quella che avevamo visto la settimana scorsa in cui potevo definire il nome di una tabella le colonne relative a questa tabella e così via quindi abbiamo la tabella adesso qui posso definire per quella tabella le singole colonne gli indici eccetera è la stessa interfaccia con la differenza che mentre prima stavamo lavorando direttamente sul database qui stiamo salvando questa informazione in un modello che poi ciò in un secondo momento trasladeremo in un database ma in realtà il bello di questo come lo chiama lui data model modello ER è che posso lavorare anche in modalità grafica e posso creare anziché creare direttamente delle tabelle posso creare dei diagrammi da cui lui dei disegni degli schemi simili ai schemi ER da cui lui automaticamente deriva le tabelle adesso vediamo come sempre questa macchina ha bisogno di pazienza allora io ho creato un nuovo diagramma quindi i diagrammi sono interni al progetto io ho creato un nuovo progetto un nuovo modello questo modello è fatto di una serie di tabelle viste eccetera e una serie di diagrammi ne ho creato uno allora la finestra di editing del diagramma è un foglio bianco in cui posso aggiungere informazioni ad esempio posso aggiungere tabelle oppure posso aggiungere relazioni tra tabelle quindi posso aggiungere clicco qua una tabella poi faccio doppio clic vado sotto e mi da le proprietà di questo oggetto tabella anziché la chiamare la tabella la chiamiamo user magari la tabella degli utenti e di questa tabella posso definire le proprietà le colonne a questo punto da qualche parte dovrò darle questa informazione semplicemente le do in un editor che ha anche una componente grafica ad esempio possiamo dire che questo utente avrà sicuramente un solo login che è un testo che deve essere non nullo è univoco eccetera l'id utente è un numero intero mettiamo che si incrementa da solo può avere non so un nome che anche qui è un testo obbligatorio eccetera e qui mi riporta un po' come usando la notazione simile a quella dei diagrammi delle classi le informazioni che ho via via inserito che poi se voglia eventualmente per motivi grafici posso collassare e richiudere e qui posso andare avanti a costruire tabelle vedermene in modo grafico posso vedere sia in modo grafico poi ovviamente nel modello sincronizzato se torno dall'altra parte vedo la tabella che ho appena creato semplicemente modi diversi di vedere la stessa cosa crea un'altra tabella magari azienda quindi che insomma chiamiamo company in cui ho delle colonne avrò un id numerico poi avrò il nome dell'azienda posso avere il sito web e altre informazioni vabbè fin qua sto creando tabelle poi per non metterci due ore per un attimo apro il modello che avevo già preparato che contiene già una parte dell'informazione adesso sono partito da zero per vedere i passaggi in aggiunta in aggiunta a questo è possibile definire delle relazioni tra queste tabelle ad esempio io potrei definire tanto per vederli vedere qualche esempio che chiaramente un utente appartiene a un'azienda quindi ho una relazione 1N tra utente e azienda un utente a partire da un'azienda sola un'azienda possiede più utenti e poi possiamo dire che di ciascuna azienda c'è l'utente che è responsabile l'amministratore del tutto l'energy manager ma ci sarà sempre in un'azienda ci sono 100 utenti ma c'è uno che è quello che ha la responsabilità di tutto quello che ha i totali privilegi di visibilità e di modifica all'interno dell'applicazione allora questa è una relazione 1-1 tra utenti e aziende ogni azienda è esattamente un utente amministratore in realtà non è 1-1 ma è uno 0-1 perché l'utente può essere o non essere l'amministratore allora queste relazioni che noi conosciamo che il modello di entità relazioni li disegniamo con dei rombi normalmente qui le dobbiamo già disegnare in termini di appunto relazioni concrete cioè campi delle tabelle e indici sottostanti delle tabelle questa è la vera differenza tra il modello entità relazioni e questo tipo di modello le modelle entità relazioni tante volte rischiamo delle relazioni definiamo le loro cardinalità i loro vincoli e poi in un secondo momento ci preoccupiamo di come mapparli in termini di tabelle mentre qua lo dobbiamo fare tutto subito è uno strumento di livello diciamo così di astrazione più basso più concreto rispetto al modello entità relazioni che facciamo su carta quindi a volte conviene magari passare dal modello entità relazioni astratto e poi modellarlo qua su casi complessi in questo caso stiamo appunto facendo qualche esempio semplice quindi non ce n'è bisogno allora ci sono due modi o tre o quattro di creare delle relazioni uno è quello di usare direttamente questi strumenti che definiscono appunto una relazione lui dice una relazione uno a uno new one to one relationship una relazione uno n e poi lui usa una terminologia abbastanza diversa da quella a cui siamo abituati e quella a cui si usa da noi nei corsi di base di dati sia in termini di terminologia che in termini di notazione grafica quindi ci vuole un attimino per abituarci qui parla di relazioni non identifying e di relazioni identifying relazioni identifying sono le relazioni se non sbaglio alla base di dati ve le chiamano rispetto a un'entità debole relazioni di cui una delle due tabelle non potrebbe esistere senza l'altra semplicemente fornisce le informazioni aggiuntive e quindi l'identificazione dell'elemento della tabella dipende dall'esistenza dell'elemento in un'altra tabella questo è vero quasi sempre e quasi esclusivamente per le tabelle che contengono delle relazioni n-n vedete che qui non c'è una relazione n-n c'è la 1-1 e la 1-n se devo fare un n-n cosa faccio? devo fare una tabella intermedia che ha a sua volta due relazioni 1-n queste relazioni 1-n sono di tipo identifying nel senso che la tabella intermedia non è di per sé una tabella debole non potrebbe esistere senza avere le informazioni delle due tabelle principali quindi una terminologia un po' diversa per rappresentare le stesse cose qui possiamo diciamo esistono diversi modi drag and drop per selezionare queste relazioni io preferisco lavorare all'antica perché loro sono in grado di creare già se usate questi strumenti grafici vi aggiungono già dei campi alla tabella che sono i campi le chiavi esterne eccetera io ma semplicemente per comodità futura preferisco scegliere io che nome dare a questi campi e quindi lo faccio a mano ma il risultato è lo stesso che se lo faceste in modo grafico solo che lui vi assegna dei nomi di default e se poi non vi piacciono tocca andare a cambiare allora quello che vogliamo fare abbiamo detto che un utente appartiene a un'azienda ok quindi nella tabella utente io devo mettere una reazione univoca un utente può appartenere a una sola azienda e deve appartenerci sì e quindi posso mettere i dd company come campo di questa tabella utente id company sarà ovviamente un int perché tale è la chiave primaria della tabella company è un campo obbligatorio not null e basta allora qui ho aggiunto il campo adesso devo dire al database che questo campo id company è una chiave esterna rispetto alla tabella company allora qui sotto ci sono le forne key che fanno quello chiave esterna il nome della chiave esterna questo è un nome simbolico puramente documentazione la chiamo user company per ricordarmi chi collega a chi e devo dire questa chiave esterna a quale tabella fa riferimento cioè qui sono nella tabella user sto creando una chiave esterna verso quale tabella è verso la tabella company e qual è il campo chiave il campo chiave è il campo id company e questo campo chiave a quale campo della tabella secondaria deve far riferimento in questo caso lui mi presenta non mi presenta tutti i campi della seconda tabella ma solo quelli o le chiavi primarie o quelli su cui è stato definito un indice su cui ha senso è possibile garantire l'integrità referenziale e in questo caso c'è solo la chiave esterna id company quindi nel frattempo lui ha rappresentato la stessa cosa in forma grafica dove questa relazione è stata identificata in modo tratteggiato lui la chiama non identifying relationship quindi è una relazione normale non è di quelle deboli e poi ci dà questi simbolini che fanno riferimento alla cardinalità sono dei simboli diversi rispetto a quelli a cui siamo abituati normalmente scriviamo 1 e n sugli angolini ma in questo è un modo grafico di rappresentare la stessa cosa un trattino questa stanghetta verticale sta a indicare 1 la zampetta di gallina sta a indicare molti quindi qui vuol dire da questo lato la relazione è da 1 a molti da questo lato la relazione è 1 1 quindi la relazione 1 e n con 1 azienda e n utenti quindi voi potete immaginarvi che se lo guardo dall'azienda io posso vedere tanti utenti perché seguendo questa freccia a un certo punto si bifoca la zampetta di gallina e posso avere l'utente 1 l'utente 2 l'utente 3 visto dal lato utente vado verso la company e ne vedo una sola qui ce n'è una sola non c'è nessuna biforcazione di questa linea ok se la relazione fosse opzionale come faccio a farla rendere opzionale beh questa colonna id company dico che non è obbligatoria quindi ho tolto il not null e mi compare un tondino un pallino che sa indicarlo 0 quindi questo mi dice che la relazione lato azienda è una relazione 0 1 e quindi una relazione univoca ma ozionale quindi di fatto è una combinazione tra due simboli che sono la stanghetta verticale che indica l'uno il pallino che indica lo zero e la zampa di gallina lo traducco in italiano così in inglese la chiamano crossfoot il piede di corvo vabbè si è più abituati alle galline forse e ai corvi e la zampa di gallina rappresenta l'enne la linea tratteggiata rappresenta le relazioni normali la linea continua rappresenta le relazioni identifying che non è questa in questo caso qui lo stiamo definendo lo vediamo in termini grafici e nello stesso tempo possiamo anche definire le regole di integrità referenziale che vogliamo applicare al database cioè noi stiamo facendo contemporaneamente uno sforzo di documentazione di progetto ragioniamo sul modello documentazione perché stiamo dando i nomi sensati diciamo così presentandoli in modo grafico e poi anche di implementazione vera e propria della base di dati in cui questa relazione posso definire quali vincoli il database dovrà applicarci cioè quando viene violato questo vincolo di integrità referenziale cosa devo fare arrabbiarmi oppure no nel caso di aggiornamento nel caso di una cancellazione e queste sono le opzioni classiche del SQL fai niente oppure blocca l'operazione se violasse se cercassi di eliminare una company quando ci sono degli utenti che vi fanno riferimento nel caso di no action viene fatto nel caso di restrict non mi permette di cancellare una company se esistono degli user che vi fanno riferimento quindi mantenimento dell'integrità dei dati quindi in questo caso potremmo mettere restrict non vogliamo mai che succeda in termini a seguito di aggiornamento di cancellazioni che utenti facciano riferimento ad aziende che non esistono più poi non è così semplice adesso lo vediamo tra un attimo e poi abbiamo una seconda chiave che vogliamo costruire che è quella da company ai user abbiamo detto di ogni azienda devo conoscere qual è l'utente che è l'utente principale non di questa azienda non il proprietario quello che ha i maggiori privilegi in termini di gestione energetica quindi possiamo chiamarlo un main user utente principale allora aggiungiamo nella company una colonna main user che anche esso sarà una chiave esterna rispetto alla tabella user ogni azienda deve averlo quindi not null questo e anche qua aggiungo la chiave esterna a questo punto sto lavorando nella tabella company mi metto sempre dal punto di vista della tabella da cui parte la relazione invece usando i simbolini grafici ma poi se il get l'help della documentazione del workbench ve lo spiega si deve partire cliccando prima sulla tabella da cui parte il lato menu della relazione e poi dopo sulla tabella da cui c'è il lato one ma mi trovo meglio direttamente a lavorare sulle tabelle in questo caso abbiamo company la chiamo company underscore main user dalla tabella company faccio riferimento alla tabella ho perso il mouse guardato dalla tabella company faccio riferimento alla tabella user e la colonna main user della tabella company si mapperà sull'id user della tabella user quindi qui lo vedo anche graficamente se vado su company lui fa un mapping di colori vedete che il verde di main user nella tabella company segue a una liga relazione verde che che porta la tabella user evidenzia in verde il campo id user quindi si riesce a seguire main user ok si qui c'è un vincolo che non so se esprimero o no il database vedete che c'è lui sulla base come fa perché non mi ha mai chiesto la cardinalità di queste relazioni perché lui la capisce da quali sono le chiavi primarie qual è diciamo così e i vincoli di null not null di unicità di obbligatorietà degli attributi quindi non è necessario che io lo specifichi è implicito nella struttura delle tabelle e qui infatti mi ha per un attimo stupito il fatto che la relazione qua fosse da uno a molti noi invece la pensavamo in relazione da uno a uno effettivamente però per come l'ho modellato nel database è così nel senso che non c'è nulla che impedisce allo stesso user di essere citato come main user di aziende diverse l'azienda 1 ha come main user Pippo l'azienda 2 potrebbe avere come main user Pippo in realtà noi sappiamo che c'è un vincolo a monte che Pippo o appartiene all'azienda 1 o appartiene all'azienda 2 e non ha senso che sia main user di un'azienda a cui non appartiene questo però è un vincolo già di secondo livello che in SQL non si può esprimere l'unica cosa che possiamo fare l'unica approssimazione che possiamo dare di questo concetto è di dire che la stessa persona non può essere main user di più di un'azienda quindi non possono esserci due utenti scusate due aziende diverse che abbiano lo stesso main user questo vuol dire che potrei richiedere che il main user sia unico sia univoco allora in questo caso è vero che qui la relazione permette in molti ma nella pratica non riesco a inserirne molti in questa tabella quindi aggiungo dei vincoli ok e anche qua potrei definire quali sono i vincoli di integrità referenziale cioè qui anche evitare di cancellare un utente o aggiornare un utente quando questo utente è il main user di un'azienda perché se per caso cancellassi quell'utente lì l'azienda rimane senza main user e qui non c'è più nessuno che può eventualmente accedere ai dati modificare creare altri utenti eccetera quindi in teoria dico in teoria perché tra un attimo ritorno sui miei passi anche qua dovrei mettere diciamo così forzare i vincoli internazionali e qui vado avanti no? modellando via via le informazioni l'azienda è fatta di siti di sedi allora ho bisogno di una tabella sulle sedi le sedi contengono dei sensori e quindi ho bisogno di una tabella sui sensori i sensori forniscono dei dati quindi ho bisogno di una tabella che rappresenta i dati di ciascun sensore eccetera eccetera adesso vi faccio vedere lo schema che avevo fatto che ho preparato ma prima di vedere lo schema completo volevo ragionare un attimo su questo vincolo perché è vero che dal punto di vista statico dei dati non ha senso che esista un utente che non appartiene a nessuna azienda quindi il cui campo ID company dell'utente non è valorizzato a una chiave primaria valida di un'azienda non ha senso non può esistere un utente che non appartiene a nessuna azienda così come non può esistere un'azienda che non abbia identificato un suo utente principale e quindi sono veri questi vincoli che stiamo scrivendo dal punto di vista statico pensate dal punto di vista operativo pratico dinamico cioè io devo creare arriva un nuovo cliente allora questo nuovo cliente ha l'azienda e ha l'utente il responsabile ha questi dati no se non ha questi dati non partiamo oltre all'assegno se non ha questi dati non possiamo partire se ha questi dati cosa faccio creo prima la tabella l'azienda nella tabella company e poi l'utente nella tabella user non posso perché se provassi a creare prima l'azienda nella tabella company non saprei cosa mettere come main user perché l'utente non c'è ancora allora non riesco a fare la insert perché il database mi dice no quel campo main user è obbligatorio e mi devi dare un riferimento ad un utente che esiste già e che non è già main user di qualcun altro non ce l'ho un utente da darti ho ne metto uno finto ma e quindi non posso creare prima l'azienda devo creare prima l'utente peccato che non posso neanche creare prima l'utente perché nel momento in cui creo l'utente devo specificare il campo id company relativo all'azienda questa non un'altra quindi è vero che alla fine avrò creato entrambi e entrambi saranno ben collegati ma mentre li creo ho il problema dell'uovo alla gallina per cui non posso materializzare l'istante le query viene prima una e poi l'altra o viceversa ma in nessuno dei due casi non può funzionare e allora cosa si fa si rilassano dei vincoli io rilasserei lato company che mi sembra meno grave è una company che per un attimo esiste ma non ha ancora un main user e vabbè glielo diamo metti che quello si licenzia può anche aver senso sappiamo che è una responsabilità che a questo punto non stiamo più dando al database di verificare che l'azienda sia ben caricata e diventa una responsabilità dell'applicazione allora a questo punto abbiamo tolto il vincolo lato company vuol dire che potremmo creare una nuova company senza ancora specificare l'utente poi andiamo a creare l'utente poi andiamo a aggiornare la company mettendo il campo con l'id dell'utente quindi adesso praticamente tante volte ma succede spesso che progetti che sono concettualmente puliti dal punto di vista relazionale del modello entità relazioni poi quando uno cerca di traslarli in modelli operativi deve scendere dei compromessi ma non c'è niente di strano parliamo ingegneria parliamo di compromessi e va avanti così quando uno ha finito questo giochino quindi questo modello ricordiamoci di salvarlo lui lo salva in un file che si chiama con estensione strana mwb o qualcosa del genere mwb chiamiamolo prova perché poi vi faccio vedere quello più completo e questo è un file che posso prendere riaprire modificare posso sempre in ogni caso vedere sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista delle tabelle che dal punto di vista delle chiavi primarie eccetera anche le relazioni ci faccio doppio clic sopra me le fa vedere me le permette qui è un altro quando ho fatto doppio clic sopra la relazione mi permette di modificarne le proprietà in una tabellina reassuntiva anche qua obbligatorio non obbligatorio noi abbiamo detto che ad esempio il campo main user poteva non essere obbligatorio e dunque mettiamolo di così e invece esatto è diventato opzionale di qua e vabbè andiamo a modificare le proprietà di dettaglio di queste relazioni se non vi piace vi cambiate il nome pardon qua sotto potete cambiare il nome o altro si sa da questo a questo punto non abbiamo ancora toccato il database abbiamo solamente disegnato con questo strumento grafico ma che poi non è solo grafico la struttura del database che vogliamo il passaggio successivo vi dicevo è quello di fare forward engineering cioè generare adesso mi fermo un passo prima genero il codice SQL che creerà un'istanza di questo database in un DBMS online da qualche parte qui in realtà posso definire degli opzioni diciamo così le varie modalità in cui questo SQL viene generato e quindi lui può creare tabelle viste tutti gli oggetti che ho definito se vado avanti poi mi fermo a un passo prima ciò che fa lui il workbench è di generare qualche paginata di SQL in cui ci sono i vari create table con tutti i campi e tutti i foreign key tutti i references tutte le regole di integrità referenziale eccetera eccetera tutto il lavoro a questo punto lo fa il database e se andassi avanti al passo successivo next mi chiede di collegarmi a un database esistente e quindi mi crea il database e ci mette dentro le tabelle adesso non lo faccio perché sennò vado a sovrascrivere il lavoro che ho fatto in precedenza e passo successivo gli manda la query se non ci sono errori di connessione dovrebbe riuscire a farlo passo dopo vedete direttamente un execute quindi ogni volta che io modifico qualche cosa in questo modello devo fare un forward engineering per aggiornare il database vero sulla base delle nuove informazioni che ho nella tabella oppure se le modifiche sono piccole magari posso fare solamente un synchronizer in cui va a leggere lo stato vecchio soprattutto se ho già messo dei dati nel database ricreare fare forward engineering ricrea un database nuovo vuoto create table crea una tabella nuova mentre invece il synchronizer fa un alter table cioè aggiunge una colonna cancella una colonna e quindi preserva i dati che già esistevano nel database se il sito sta già funzionando continua già dei dati non lo posso aggiungere quindi questo è un po' lo strumento che usiamo vi apro solo per vederlo insieme poi aspetta questo si sono andato un pochino avanti in questo lavoro poi così si riesce già in cui ho modellato una tabella utente con una serie di campi la tabella company la tabella company site cioè la sede dell'azienda una tabella sensor che contiene il sensore che ovviamente è localizzato all'interno di una sede dell'azienda qui mancherà poi un'altra tabella che parla di sensori esterni quelli che prendiamo da altri siti e questo sensore in realtà contiene una serie di campioni i dati presi da ciascun sensore dall'altra parte ho gli utenti con un po' di dati che sono legati con la company nel modo in cui abbiamo visto prima sono legati con una tabella ruoli perché abbiamo detto gli utenti a seconda del loro ruolo hanno diversi privilegi di accesso quindi ho creato una tabellina in cui registro quei 3, 4, 5 ruoli diversi che prevedo di avere nel sito adesso qui non c'è ancora niente in questa tabella ma è pensata per quello e poi proprio solo per dare un accenno di come si collegano le cose ho pensato che l'utente quindi questa sopra la tabella utente l'utente può definire dei display delle videate e ogni videata è un insieme di widget quindi di componenti della pagina questi widget ad esempio possono fare riferimento a sensori quindi io dico io voglio un display in cui metto 4 widget e il primo widget mi fa vedere il dato di quel sensore il secondo mi fa vedere il dato di quell'altro sensore e così via adesso qua poi dovremo imparare ragionare su come è fatto questo widget cosa mi fa vedere mi può far vedere un dato un numero cioè il dal valore istantaneo mi può far vedere una tabellina con gli ultimi valori mi può far vedere un grafico qui ci possiamo giocare possiamo studiare tante soluzioni diverse e chiaramente poi questo database andrà poi arricchito con delle informazioni sulla tipologia di questo widget sulle parametri che vogliamo dare però l'utente di fatto può costruire uno o più qui c'è un menu display ciascuno dei quali è composto da molti widget quindi quell'utente ha tante videate disposizioni magari l'utente che ha ruolo principale all'interno dell'azienda può accedere ai display creati da tutti gli utenti questa sarà poi una regola nostra sappiamo come fare perché l'utente principale dell'azienda è quello che è citato come main user di qua e quindi possiamo andare a prendere tutti gli altri utenti di quell'azienda e vedere quali sono i loro display questo poi fa parte delle funzionalità del sito del modello funzionale non più del modello dati quindi qui ho provato e questo ovviamente l'ho mappato poi in SQL sul sito ho generato le tabelle vi adesso vi metto poi sul sito sia il file mwb in modo che da poter aprire il modello wordbench il modello grafico poterlo vedere modificare eventualmente sia direttamente il dump del database ho fatto un forum engineering del database quindi ha creato le tabelle e poi subito dopo ho fatto un dump di quelle tabelle vuote in modo da poterli importare facilmente ho fatto un export dal distance manager e quindi per rapidità per poter lavorare vi conviene partire importando direttamente questo SQL se no potete partire aprendo il modello e poi fare forum di engineering sul database il dump già visto che prima avevamo parlato di problemi di chiave esterna se andate a vedere le istruzioni quando fate esporte ripristina dal MySQL c'è una serie di commenti leggibili all'inizio che in realtà non sono commenti sono direttive al database tra cui ce n'è una del tipo senti non controllare non controllare i vincoli di unicità non controllare i vincoli di chiave esterna e quindi quando prendi i dati quando ripristino da un dump mentre lui fa il ripristino disabilita tutti i vincoli di integrità referenziale che abbiamo impostato e quindi questo ci aiuta nel senso che è più facile importare un dump già fatto che una volta creare un database in cui devo fare attenzione all'ordine in cui si creano le tabelle se non ricordo più se nell'ultima versione a un certo punto lui creava degli insert nelle tabelle il workbench ma nell'ordine sbagliato perché popolava le tabelle prima una poi l'altra e quindi dava poi dei vincoli di integrità referenziale quando cercava di crearle se importate il dump non dovreste avere questi problemi proprio perché lui disabilita i controlli e ovviamente parte da una situazione in cui i dati erano integri erano corretti quindi per maggior velocità vi conviene importare questo l'altra cosa che vi metto a disposizione è uno scheletro minimo ricordate la settimana scorsa abbiamo visto come gestire meglio la connessione del database con il data source allora c'è da toccare in 3-4 posti allora questo progetto qua che ho creato nuovo che ho chiamato energy community ci sono le cose che vi servono quindi se andate a prendere il file poi eventualmente modificandoli da qui ricordiamo per accedere ad un data source è necessario avere il file web.xml nella cartella webinf il file web.xml contiene potete quasi del tutto copiare questo contiene la descrizione della risorsa in cui ho dato un nome energy community db e ho distanziato il data source che lo deve gestire quindi queste sono le righe da aggiungere al web.xml oppure vi copiate questo e partite da questo progetto ho creato un progetto da zero in cui non c'è altro se non queste cose qua quindi ciò che serve per partire poi devo dire a Tomcat di distanziarlo a gestire la directory questo va messo in un file context.xml che va messo non dentro webinf ma dentro metainf nell'altra cartella quindi se andate a prendere context.xml dentro metainf contiene le istruzioni per creare il data source vero e proprio quindi crea un data source gli da questi parametri di configurazione queste privilegi di accesso e qui eventualmente lo modificate se avete creato un utente diverso o con una password diversa per ospitare questo database e poi l'indirizzo mysql qui c'è il nome del database l'ho chiamato energy community quindi questo è dentro context.xml di metainf la terza cosa che ho modificato è dbconnect la classe dbconnect che avevamo apriva una connessione nuova ogni volta adesso abbiamo istruito Tomcat di gestirci un connection pool automaticamente e quindi si semplifica anche di molto la classe dbconnect in cui ho il costruttore dbconnect ricordiamoci che noi la usiamo soprattutto per il metodo get connection che mi istituisce un nuovo oggetto di tipo connection l'oggetto get connection in questo caso è banale nel senso che chiede la connessione al data source che sta gestendo il pool di connessioni quindi get connection è diventato un metodo cretino ribalta la richiesta sul data source data source il quale ho potuto creare al momento della creazione dell'oggetto ma il data source in realtà non l'ho creato io c'è già me l'ha creato Tomcat perché glielo ho detto nel context.xml quindi la creazione dell'oggetto devo semplicemente prendere interrogare il directory di Tomcat prende un riferimento al data source ricordiamoci il data source è l'oggetto che esiste il connection pooling il pool di connessioni che c'è già è stata inizializzata grazie all'istruzione del context.xml e me la salvo localmente me la salvo dentro questo oggetto così non devo ogni volta andare a fare look up e riprendere l'oggetto quindi questo dbconnect si tiene un riferimento al data source e ogni volta che chiedono una connessione a dbconnect lui in realtà la chiede al data source quindi è abbastanza diverso ma dal punto di vista delle classi che lo usano delle pagine gsp che lo usano non cambia nulla noi semplicemente chiamiamo il gate connection quindi questi sono i tre ingredienti che vi permettono di partire subito operativi con un progetto che usa direttamente il data source quindi anche più efficiente e non apre le connessioni a mano ogni volta poi vabbè qui semplicemente o per provare ci sono due pagine dentro l'elettro di test ci sono due pagine gsp che fanno l'elenco di alcuni utenti di prova che ho messo nel database solo per provare che tutto funzioni e che si appoggiano ovviamente su un bing user list bing che farà l'elenco degli utenti ma solo analogo a quanto facevamo la settimana scorsa solo applicato a questo database qua per verificare che tutto funzioni ma questi potete prendere e buttare via da parte che sai i tre file che servono sono il nuovo db connect il context.xml e il web.xml e ovviamente ricordatevi di salvare anche dentro lib una copia del connettore mysql perché altrimenti non può funzionare se decidete di cambiare il nome della connessione il nome simbolico registrato nella diretta della connessione purtroppo lo dovete cambiare in tre posti in web.xml in context.xml e anche nel db connect che lui poverino quando parte il costruttore deve interrogare deve sapere qual è il nome con cui è stato registrato il data source quindi l'ho scritto anche qua quindi sono tre punti in cui ma questo è un nome simbolico non dovrebbe dare fastidio mentre invece le informazioni sulla connessione database sono tutte dentro context.xml quindi è più facile migrarlo su macchine diverse adesso vi metto questi file quindi il database e questo schermo di progetto sul sito in modo che poi possiate lavorarci e cominciare a sviluppare diciamo così a portare le prime funzionalità all'interno di questo nuovo schema poi nel frattempo cominciate a pensare all'analisi quale possono essere le funzionalità che offriamo agli utenti e poi via via le andiamo a costruire ok va bene facciamo intervallo grazie a tutti